Siamo in piena stagione turistica e riprende i Tineris, una iniziativa di successo organizzata dall'Associazione Alberghi Consorziati di Fano, Torrette e Ponte Sasso, un'iniziativa che accosta le attrattive della costa con quelle dell'entroterra e ha ottenuto un grande successo perché poi c'è la gastronomia, c'è l'arte, c'è la bellezza, c'è il paesaggio, insomma tutto un insieme di attrazioni che rendono ancora più suggestivo il soggiorno dei turisti nel nostro territorio. Luciano Cecchini, quando riprende questa iniziativa e in quali termini? Siamo partiti dal primo di luglio e abbiamo già iniziato subito bene, oggi abbiamo fatto questa conferenza stampa perché con l'occasione abbiamo mostrato tutte le iniziative che faremo con i Tineris, sia dalla merenda per le 1500 persone con bambini sulle spiagge, sia con le visite ai musei, con la visita del Museo del Ridosso perché in questo momento stiamo montando questa macchina eccezionale facendo conoscere tutte le tradizioni del mare e con l'occasione abbiamo portato anche a conoscenza la barca che ha visto Dalla nei cantieri azzuri di Marotta. Qui abbiamo al nostro fianco questa bellissima barca dove Dalla salì e disse questa è la barca che voglio io e il cantiere azzurro, bensì che aveva tante commesse, come c'era scritto sul giornale, gli aveva detto all'inizio no, poi con delle battute gli è rimasto simpatico e ha costruito questa barca. Quale ruolo assume l'enogastronomia nell'iniziativa dei Tineris? Per noi è quel fiore all'onchiello che veramente portiamo avanti da anni e con il discorso dell'enogastronomia apriamo tante prima di tutto le tradizioni, i nostri cibi, l'olio, i formaggi, le nostre cantine, tantissime cantine aperte che veramente sono un'eccellenza nell'eccellenza. Il Tineris io penso che non ha bisogno di presentazioni, ormai 15 anni che io sono presidente dell'associazione albergatori è più di 10 anni che stiamo facendo questo progetto. Se un terista, un fanese volesse partecipare a queste escursioni nell'entroterra cosa deve fare? Basta chiamare l'associazione albergatori di Fano oppure presentarsi allo IAT nei due punti IAT qui di Fano e chiedere che voglio fare un giro con i Tineris. Subito viene chiamato, dandogli il numero di telefono, viene chiamato e noi automaticamente gli daremo i punti di ritrovo oppure il punto dove verrà caricato il cliente o il turista o il fanese perché non è detto che il fanese non conosce queste eccellenze.